Sulla futura destinazione di Villa Angerer, il grande compendio a Chiarano di Arco, si discute ormai da alcuni decenni. L'ultima presa di posizione è quella di trasformare l'ex sanatorio Sanaclero in un centro di salute e benessere, annunciata di recente dall'imprenditore di trasporti Eleuterio Arcese. Un'idea che ha ricevuto l'apprezzamento del sindaco arcense Betta e del presidente di Garda Trentino Sviluppo, Graziano Rigotti. A disposizione del nuovo centro, che sarà specializzato nella prevenzione delle patologie, vi saranno anche le competenze del medico di origine rivana Luigi Fontana, esperto a livello mondiale nell'ambito della nutrizione. Abbiamo però scoperto che quest'idea ha avuto origine ben sei anni fa, grazie all'idea di Silvio Malfer, cittadino arcense che ha alle spalle innumerevoli iniziativa per il bene della comunità. Ex consigliere comunale, uomo di grande senso civico, che ha realizzato parecchi progetti per il bene comune, aveva già avuto modo allora di incontrare il professor Fontana e di proporre l'idea al sindaco Betta, alla comunità di Valle e altre autorità. Nella lunga intervista che ci ha concesso ci racconta com'è andata. È recente la notizia che l'imprenditore Luterio Arcese ha intenzione di ristrutturare Villangerer, l'ex sanatorio Sanaclero, per fare una clinica che potrebbe essere gestita dal professor Fontana. Un'idea che lei ha già avuto qualche anno fa, è stato un po' un precursore di questa idea? Direi di sì. Mi interesso di sanità da lungo tempo e pertanto penso di poter dire qualche parola al riguardo quale contributo agli interessi della mia gente, del mio territorio. Vedo in questi ultimi tempi, da qualche mese a questa parte, vedo attraverso la stampa, constato che vi sono vari interventi che riguardano l'eventuale utilizzo del Sanaclero di Arco, che tutti ormai conoscono, è un ex sanatorio chiamato Villangerer. Pertanto questo utilizzo io da tempo l'avevo pensato e l'ho anche concretizzato, non soltanto a parole, ma ho avuto l'opportunità, convinto della bontà di un progetto, di presentarlo. È un progetto che senz'altro dovrebbe essere molto utile, molto proficuo per tutta la nostra comunità. Lei già conosceva il professor Fontana e quindi ha avuto quest'idea insieme a lui? Ho avuto l'opportunità di conoscere il dottor Fontana e mi spiego. Lo scopo principale è in sintesi il prolungamento, secondo il dottor Fontana, eminente essenziato numero uno della scienza per quel che riguarda l'alimentazione che esiste al mondo. Questo presupposto è quello che mi ha portato a discutere e a portare avanti un progetto che ritengo senz'altro molto utile alla nostra comunità, ma cerco di spiegarlo in breve parole. Interpreto con questo mio pensiero, che cioè la finalità e la cura della persona portandola il più lontana possibile negli anni, con un miglior benessere possibile senza gli acciacchi che solitamente accompagnano la gente. Mi è venuto in mente che avevo un amico, il dottor Roberto Luongo, che era fisioterapista a quel tempo, lo conoscete un po', penso in tantissimi, è diventato medico e ricercatore. Mi sono ancora il giorno dopo rivolto a lui, gli ho spiegato la situazione e questo mi ha detto, guarda Silvio, io penso di aver qui la persona adatta per questo tuo sogno, per questo tuo contributo che vuoi dare alla tua gente. E dico, chi è? È uno scienziato, si chiama Luisi Fontana, ha origini in Rivane per via di madre, lui è uno che ha già costituito un centro in America, un centro a Roma e uno a Napoli e siccome ripeto, ha origini in Rivane, vedrebbe benissimo di mettere a fuoco, di mettere a disposizione il suo progetto per agevolare, per aiutare anche la nostra popolazione. Al che questo è avvenuto nel febbraio del 2011. Allora ho subito detto al mio amico Luongo, guarda, dico, fammelo conoscere. Immediatamente ho una telefonata, ci siamo incontrati, per farvela breve, abbiamo parlato il tempo necessario perché capissi che cosa aveva nella testa, cosa aveva intenzione di fare e ho capito che forse poteva essere la persona giusta, la persona importante per questo progetto. E sono orgoglioso perché sotto sto profilo ho portato uno scienziato, ho portato un progetto vero, non parole o chiacchiere. E ho fatto una telefonata innanzitutto alla comunità di Valle, cercavo Valandro il presidente. Valandro non c'era, allora ho cercato il suo vice che è Mauro Malfer, l'architetto Mauro Malfer, attuale presidente della comunità di Valle. Gli ho detto se potevo proporgli un incontro, ha accettato, il Fontana è andato con me da Mauro Malfer, gli ha illustrato il suo progetto e Mauro Malfer si è dimostrato entusiasta ancora in quel momento di questa cosa. Immediatamente ho chiesto del sindaco nel comune di Arco, era Mattei, e non c'era e ho trovato il vice sindaco, era Alessandro Betta, è stato il primo interprete principale che è stato informato e che ha conosciuto il dottor Fontana. Fatto questo escursus, tutti si sono messi disponibili per elaborare questo progetto, comunque il giorno dopo mi hanno demandato che parlassi col sindaco e col presidente della comunità di Valle. Il giorno dopo ero da Valandro, col quale ho visitato anche, abbiamo potuto vedere in Sanaclero insieme, è rimasto soddisfatto pure lui, ha detto che si sarebbe interessato e che avrebbe proceduto in conseguenza. Mi ha sollevato solamente un'obiezione, che è la prima, che mi ha detto chi è che si interessa per portare avanti questo progetto, questo programma, è la comunità di Valle, deve essere la comunità di Valle o devono essere i comuni. È meglio che tu parli col tuo sindaco, perché essendo la zona anche in quel diarco, è ciò che ho fatto. Finalmente ho potuto incontrare Mattei e gli ho spiegato la cosa. Mattei ha avvocato a sé questo compito, ha detto faccio io, ci penso io e così via. Pertanto mi sentivo tranquillo. Ho detto a Mattei, è bene che voi facciate, tra noi, che voi facciate un po' queste considerazioni. Il progetto ad eccellenza, come vi è stato proposto, con il dottor Fontana, un numero uno della medicina, ideatore del progetto a voi noto, vi sta bene e pertanto è di vostro gradimento. Vi sono obiezioni? Ritenete opportuno avviare l'iter propositivo e realizzativo con l'inserimento di varie componenti, quali le amministrazioni di Arco e Riva, la comunità di Valle, un istituto finanziario ed una parte civile composta da un'accordata di imprenditori? Dunque sono stato un antesignano anche in questo, perché faceva parte e è iscritto in questo progetto. Vista bene come sede locativa del manufatto sanitario che occorrerà ricostruire per adattarlo alle finalità a cui è proposto l'ex sanaclero e dall'occorrenza quali altre alternative proponete? Ritenete opportuno formare una squadra con un coordinatore referente? Io ho detto questo a Mattei. Nel frattempo il dottor Fontana mi ha preparato il progetto, questo è il progetto, è composto di una decina di pagine, dove è descritto in pratica la modalità, il fine e quanto occorre per produrre il soggetto in parola. Questo è il progetto. È un progetto che ho consegnato a svariate persone. Ce l'ha avuto il Betta, ce l'ha avuto il Mattei, ce l'ha avuto la comunità di Valle e tante altre persone che le ho ritenute senz'altro utili magari a quale contributo perché si erano presentati nella ribaltà amministrativa pubblica più volte. Però lei adesso cosa ne pensa di questo imprenditore che vuole prendere in mano quello che alla fine è una sua idea, un suo progetto? Io penso bene perché se questo progetto, naturalmente verrà discorso nei consigli comunali, verrà accettato, chiaramente che ci vuole l'apporto economico o anche fattivo proprio di persone che abbiano la possibilità di realizzare questo complesso. Mi pare che nella proposta sia indicato anche che questo compendio non rimane del tutto privato ma rimarrebbe temporaneamente a disposizione per 20-30 anni per rientrare eventualmente dalle spese che occorreranno a chi lo costruisce e pertanto io sono favorevolissimo a questa cosa. Ma non sono io che deve decidere. E la gente, sono le amministrazioni comunali perché purtroppo constato con una certa amarezza che lo spessore che ho trovato è stato molto sottile. E infatti quando mi sono affidato di Mattei, del sindaco Mattei, del momento, al quale avevo anche presentato un programma elettorale, con l'inserimento del Sanaclero, dello sviluppo del Sanaclero, lui si era impegnato con me che si sarebbe interessato della cosa, invece se ne è andato in salutato ospite dal Comune, dal Consiglio Comunale, non mi ha riferito, lo ritengo anche una scorrettezza, non mi ha riferito al Conchedi, se aveva parlato con qualcuno, cosa aveva fatto per questo progetto e pertanto sono rimasto veramente male. Chiudo questo intervento con una richiesta. È la prima volta che faccio una richiesta. Se, ripeto, se, e per la terza volta, se andasse in porto questa struttura, come è stata concepita dal progetto del dottor Fontana, chiedo semplicemente, perché io per questioni di anagrafe non ho il tempo necessario per esserci, per vederla finita, chiedo semplicemente che, se è possibile, che la prima pietra che viene collocata di questa struttura potessi essere io a porla. Io vi ringrazio.